Posizione short di 21 mila pezzi Attenzione Fiat sopra la linea ma stiamo aspettando che rompe Sale, sta rimbalzando Rimbalzato Rimbalzato la linea Rimbalzato Infatti il DAX ti è fermato Sta triangolando Quindi i rimbalzi sono più corti Ma però più l'omere sopra E più se la volete in tocca di quando rompe Mi ci piace No ma adesso potrei anche mettere un po' Mi fregando un po' E perdere, salire Però se scende ha la volete tantissimo Tipo quanto? Tantissimo Se scende Si capisce sempre da quel discorso Di tutta la gente che ha comprato e quanto non è salito Se scende Crolla pesante Perché comunque non è salito Perché è andato piano Vedi che sale sempre piano piano Il crollo sarà al contrario Il crollo sarà al contrario Vai Ma non c'è qualcuno che compre Non lo so Non è deciso L'avvicinamento al livello non è potente Guarda c'è qualcosa di strano Un po' indeciso Qualcosa di strano Che ha cambiato idea dici Si sta girando Potrebbe girarsi Potrebbe girarsi Si E' meglio scaricarti un po' Eh infatti si E' ricompri e rivendi sopra Forse Dai DAX Eh DAX Eh DAX Vedi sta riscendendo Eh ma Ecco Ecco sta iniziando Ad attaccare Potrebbe essere anche qualche secondo Di pazienza Ecco Ma non c'è più niente sotto Ma è inutile che ti chiudi secondo me Un po' Deci rischio Ah vabbè Se hai 17000 va bene dai Ma non mi piace Il turno indietro Si 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 ma si C'è qualcosa che non va Non rompe ancora Ancora no Ci ha sentito Ho più 1000 però Sembra non lo hai chiuso Maledetti Vabbè Vabbè Ecco adesso questo prodotto Parliamo Dove sta sotto il minuto Si ferma Prima 40 e poi il minimo Vedete Poi Camparenzi Prima l'ha rispettato Noi lo vediamo Se inizia le gambele Vedete che questa parte colorata è il minimo Prima tocca esattamente il minimo della linea Qua è quella Questa parte colorata è dove è arrivato Vedete che sta più colorato rispetto agli altri Si vabbè Adesso l'ha perso il prodotto Ma non restiamo 12000 Assolutamente Allora preparavano BOOM 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 12000 pezzi Peccato Ma vai tempo E' timida Si E' timida 1150 volt Cioè Cioè Impazienti Quindi questa era una delle linee anche del soft Che tiravano O no? Si Mi sono chiuso il fiat Adesso ribalzo un attimo E poi lo shortiamo Ora vinta ribalzo Lo frediamo Lo frediamo E poi lo frediamo adesso eh Però adesso ci erano anche i fiat No no Infatti bisogna stare molto attenti Eh non ce l'ho fatta a shortarlo Non ce l'ho fatta Mi sono chiuso Aspetta Se mi rimbalzo un po' Poi possiamo shortare Vedo? Se mi rimbalzo un po' Fiat Però se non è così L'ho fregata Non l'ho perso Ma le crolla Crolla Pesante Ma le crolla Va a meno 5% Oggi Non ce l'ho fatta No non ce l'ho fatta Si l'ho preso Guarda Guarda 3000 pezzi Che rabbia Questi ti ho soldi veri cazzo Solo il 1400 Stava A 2000 A 2000 Se faccia 1800 Sopciu 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 Ce l'ho fatta Si Passi Kun Sab разм